13 e 400 al cavallo con maniglie possiamo due giri per lui dal suo azucara buon salto come il francese anche lui va sulla sicurezza o meglio su quanto riesce a fare e quando fermi ai due giri è più facile naturalmente assicurare l'atterraggio che non aumentare due giri e mezzo la rotazione longitudinale